Ora, secondo me, Maldini ieri sera ha incontrato Pioli nel post-partita, lo ha preso da parte nello spogliatoio e gli ha detto, Stefano, in campo ci hanno distrutto, siamo stati dominati, ci hanno arato sotto ogni punto di vista, però ricorda, nelle interviste post-partita e nella conferenza post-partita dobbiamo riuscire nell'impresa di fare peggio. Maldini ci ha provato e alla fine ha detto delle cose più o meno condivisibili tranne una, tranne una che andrò a commentare in questo video, come si è potuto capire dal titolo. Tutte le altre, quelle di Pioli, le commenterò dettagliatamente questa sera nella live del giorno dopo, quindi ci vediamo questa sera a partire dalle 20 in diretta qui sul canale. Detto ciò, ragazzi, vabbè, poi è intervenuto Salvini in punta di Fioretto con quel tweet delirante in cui ha messo in mezzo le migliaia Romagna e il Milan e ha deciso di vincere a mani basse, ma si sa, quando si tratta di dichiarazioni a cazzo di cane, Matteo Salvini è realmente il got in questo senso, cioè riesce sempre a fare un campionato a parte rispetto a tutti gli altri. Però ieri sera è stato veramente pessimo il post partita, ragazzi, veramente pessimo. Un po' spartita in cui ho avuto la netta impressione di vedere tre anime all'interno del Milan. Cioè, dalle parole di Maldini non ho minimamente avuto la sensazione di una società coesa, non ho avuto la sensazione di avere delle parti in causa coese. È come se la società fosse una cosa, la dirigenza un'altra, l'allenatore un'altra. Questo è brutto, ragazzi, cioè questo è veramente un segnale inquietante per il futuro. Certo, se la dirigenza ha deciso ormai di abbandonare completamente questo allenatore, a me può fare solo che piacere, perché lo ripeto, per me il ciclo di Pioli al Milan è evidentemente finito. Però, dopo una sconfitta di questo tipo, andare in conferenza stampa, andare davanti ai microfoni e fare delle interviste in cui sostanzialmente si dice io volevo fare dell'altro, ma loro non me l'hanno permesso, è quantomeno così discutibile, perlomeno discutibile. Ma andiamo a leggere le dichiarazioni, tra virgolette, incriminate. Perché si parla di mercato, si parla di mercato e si parla di decetelare. Così. Un giocatore che, ricordo, non è sceso in campo in questi due derby. E meno male, ripeto, perché rischiavamo di perderlo del tutto, psicologicamente, sto ragazzo dopo la stagione che ha avuto. Ma andiamo a leggere. Decetelare è un esempio di giocatori che devono crescere. È normale. Questo Maldini ai microfoni di Sky Sport. Sarebbe stato molto più semplice e molto meno oneroso per noi andare su un giocatore come Dybala all'inizio dell'anno. Ma sarebbe stato un acquisto giusto per il nostro progetto? Sarebbe stato giusto e condiviso dalla proprietà? No. Cioè, ascolta, scusate, scusate. Cioè, allora, con queste dichiarazioni, che cosa vogliamo dire? Cioè, sostanzialmente Maldini dice volevo prendere Dybala, però la proprietà mi ha costretto a spendere 35 milioni di euro per decetelare? Cioè, quale sarebbe il senso di questo discorso? Perché io faccio onestamente molta fatica a capirlo. Sarebbe stato un acquisto condiviso dalla proprietà. Cioè, vogliamo veramente dare la colpa alla proprietà di questo fallimento? Perché, onestamente, a me sembra che Maldini stia facendo questo. Cioè, a me sembra un discorso del tipo io volevo Dybala, la proprietà no. E continua. Sappiamo che abbiamo un'idea e abbiamo la volontà di costruire una squadra giovane e talentuosa. Quando prendi ragazzi giovani si rischia. Si rischia che facciano fatica. È stato così per Tonali il primo anno, è stato sicuramente così per Charles quest'anno. Ma questa è la nostra idea di calcio. La nostra idea di come investire. È una cosa condivisa con la proprietà. Ma il fatto che venga continuamente rimarcata sta cosa è un'idea condivisa. La proprietà non voleva quello. La proprietà richiede il progetto giovani. Abbiamo sposato questa linea. A me, da queste dichiarazioni, sembra che Maldini voglia dire la proprietà ha deciso questa linea. Io sono stato costretto ad andargli dietro. A me sembra che stia dicendo proprio tutt'altro, onestamente. Se avessi dovuto fare una formazione più forte oggi magari avrei fatto un altro tipo di mercato. Cioè, quindi, ripeto, ce la conferma. Ce la conferma. Cioè, Maldini con queste dichiarazioni ha sostanzialmente ammesso di non condividere minimamente la linea che la proprietà ha dato. E mi verrebbe da dire ma allora perché hai firmato quest'estate? Scusami. Cioè, allora, quest'estate Maldini è stato un mese un mese a dire dobbiamo servono investimenti abbiamo vinto uno scudetto ed è un'occasione importante per aprire un ciclo per migliorare la squadra bla 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 e bla bla e bla 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 io sono il garante mi devono costruire una squadra cioè, no, mi devono costruire dobbiamo fare degli investimenti importanti servono investimenti importanti Maldini firma il rinnovo cioè, e dopo un anno è qua a ripetere le stesse cose dopo un derby europeo perso anzi, straperso cioè, ripeto io sono sconcertato letteralmente sconcertato perché la domanda è quella ma allora se non condividevi la linea di questa proprietà perché hai deciso di firmare mi verrebbe da dire per poi andare davanti alle telecamere a sottolineare che tu avresti fatto dell'altro così da discolparti cioè, ripeto io non capisco cioè, non riesco proprio a capire il senso e continuiamo è una cosa condivisa con la proprietà ripeto se avessi dovuto fare una formazione più forte oggi magari avrei fatto un altro tipo di mercato non è così perché abbiamo un progetto che stiamo sviluppando insieme ci vuole tempo essendo sempre consci che siamo il Milan questo lo sappiamo chi meglio di me lo può sapere che abbiamo sulle spalle una storia grandissima ragazzi ripeto a me queste dichiarazioni non sono piaciute per niente per niente e il fatto che venga detta la cosa sui giocatori e sugli acquisti alla dibala che sarebbero stati condivisi dalla proprietà o meno ragazzi però ad un certo punto è giusto anche è giusto anche mettere i puntini sulle i cioè il Milan quest'estate ha preso di Vocco Righi dandogli 4 milioni e mezzo netti di stipendio o 4 comunque 4 barra 4 e mezzo il Milan ha in rosa Alessandro Florenzi over 30 che percepisce più di 3 milioni netti di stipendio il Milan in rosa Anterebic che ha la stessa età di dibala e percepisce 3 milioni anche lui netti e passa di stipendio il Milan ha Bakayoko in rosa che ha un anno in meno di dibala semplicemente percepisce 2 milioni e mezzo netti di stipendio a stagione quindi ripeto anche sta cosa dell'acquisto condiviso dalla proprietà ma che cos'è la proprietà ti ha detto sì per Orighi sì per Bakayoko sì per tutti questi ma arrivando a dibala ha detto no no dibala no perché perché no cioè ricordo dibala alla Roma prende all'incirca 5-6 milioni di euro non di più forse anche meno quindi cos'è c'è sta storia che la proprietà non avrebbe condiviso l'acquisto ma ha la proprietà onestamente onestamente che cosa cambia tra l'avere dibala in rosa Orighi in rosa Florenzi in rosa Bakayoko in rosa Messias in rosa che hanno la stessa età di dibala alcuni sono anche più più vecchi e alcuni hanno anche uno stipendio più o meno paragonabile e quindi ripeto non questa cosa non l'ho non l'ho onestamente capita e mi è sembrato un tentativo abbastanza zoppicante di ripeto di giustificarsi dopo una dopo una sconfitta bruciante e badate bene che questi non sono segnali belli ragazzi perché ripeto una squadra una squadra per rendere ha bisogno che tutte le parti al suo interno siano coese e se una parte va da un lato un'altra va dall'altro un'altra pensa a a giustificarsi dopo una sconfitta dando sostanzialmente tutte le responsabilità ad un progetto sposato sì ma non condiviso fino in fondo ragazzi ripeto così non andiamo realmente da nessuna parte poiché a questa squadra servono servono investimenti sono assolutamente d'accordo però ripeto ogni anno siamo sempre qui a fare gli stessi discorsi ad un certo punto mi verrebbe da dire ma se tu non condividi questa linea se tu non condividi questo progetto cioè a questo punto mi viene da dire che ci stai a fare qua che ci stai a fare qua e non venite a prendermi le dichiarazioni letterali come hanno fatto gli interisti l'altro giorno parlando di Simone Inzaghi e della questione dell'arbitro francese perché tu quando dici quando tu parli di progetto condiviso stiamo sviluppando il progetto però ci metti tutti questi ma all'interno ma 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 il progetto è condiviso ma ma progetto lo stiamo sviluppando ma ma ripeto ma ma vuol dire che tu vuoi far passare un altro messaggio ripeto vediamo di andare un po' oltre quello che è la letteralità delle dichiarazioni detto ciò tutto il resto lo commenteremo questa sera in live io vi saluto vi ringrazio vi auguro una buona giornata per quanto oggi possa per quanto si possa effettivamente avere una buona giornata oggi sempre forza Milan e ci vediamo ad un prossimo video